Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Racconti artigiani con Confartigianato Piemonte, oggi ci dedichiamo alla formazione, al valore della formazione con due ospiti. Alessio Cocchis, funzionario di Confartigianato Imprese Piemonte, responsabile dell'ufficio regionale Categorie e Mattia Basile della categoria Carrozzieri, sempre di Confartigianato Piemonte. Prima di parlare di formazione, alcuni numeri Cocchis, quante categorie e quanti mestieri ci sono nel comparto artigiano? Bene, buongiorno, sono oltre 120 mestieri artigiani oggi esistenti, però è un dato che forniamo in via approssimativa perché non tiene conto delle numerose articolazioni esistenti nei singoli mestieri. La formazione è il titolo di questo nostro spazio, un ruolo naturalmente importante nell'ambito dell'artigianato. Ci illustra quali sono gli aspetti che possono fare la differenza per un'azienda artigiana? Beh, la formazione riveste un ruolo fondamentale per l'impresa artigiana, per poterla avviare, ma soprattutto per poter continuare a svolgerla con successo, ampliando i mercati che sono stati acquisiti e soprattutto poi riuscendo a cercare di presidiarli in maniera più opportuna, con performance sempre migliori. Sappiamo che la Regione Piemonte ha istituito recentemente nuove accademie di filiera. Ci può spiegare in poche battute di che cosa si tratta e in quale modo queste accademie possono aiutare l'impresa artigiana? La Regione Piemonte ha avviato quest'anno altre nuove accademie che si aggiungono alle due preesistenti. Si tratta di raggruppamenti temporanei che raggruppano una molteplicità di soggetti, tra organizzazioni datoriali, tra cui confrattigianato, agenzie formative e altri enti. Il loro compito è quello di definire individuali fabbisogni formativi e realizzare le attività formative per le imprese. A queste attività formative possono partecipare anche le imprese artigiane. Parliamo appunto di formazione. Signor Basile, quali sono questi corsi? Di cosa stiamo parlando? Abbiamo fatto partire dei corsi generici e alcuni specifici, come ad esempio la verniciatura e Sibili. Sinteticamente come avete fatto ad organizzare questi corsi? È stato un lavoro estremamente importante a livello di coordinamento, di organizzazione, perché ha visto coinvolti la nostra struttura, gli impianti, attrezzature specifiche, ma anche fornitori, alcuni colleghi, oltre ovviamente agli enti di formazione, università e strutture simili. Ma perché un imprenditore deve investire così tante energie per un progetto di questo tipo? Beh, sicuramente il primo motivo è il valore. Creare valore sul territorio per noi è importante, oltre a creare un principio di nuova immagine del nostro settore, perché i ragazzi che entrano da noi e dai nostri colleghi vedono aziende pulite, sane, organizzate e in sicurezza. Gli obiettivi del corso sono quindi? Abbiamo un po' di obiettivi, sicuramente passare quelle che sono le competenze e la passione che ha sempre caratterizzato la nostra azienda, ma in generale il nostro settore, ma soprattutto per creare nuovi posti di lavoro. Abbiamo puntato a un 80% e l'abbiamo superato abbondantemente. Torniamo da Cochis, funzionario di Confartigianato Piemonte, lavora in Confartigianato ormai da 36 anni. C'è un aggettivo che le viene in mente per definire appunto questa associazione, la Federazione Regionale di Confartigianato? Beh, volendo fare una singesi certamente è efficienza. Esistiamo da oltre 70 anni in Italia e in Piemonte, siamo la più grande organizzazione di rappresentanza dell'artigianato e se gli artigiani continuano ad avere fiducia in noi una ragione c'è. Signor Basile, una battuta finale, lei è una carrozzeria green. Cosa significa avere una carrozzeria green? Avere una carrozzeria green ha molti rami, ha molte ramificazioni. Tra i più importanti utilizzare materiali a basso impatto, ma soprattutto nuove tecnologie che mantengono lo stesso livello qualitativo delle riparazioni, ma abbattendo quelli che sono i tempi e i consumi per creare un sistema di economia circolare. Fantastico, il nostro tempo è terminato. Grazie a D'Alessio Cochis, grazie a Mattia Basile. Alla prossima! La cooperazione culturale che LegaCop Piemonte rappresenta è costituita da imprese che attraverso i diversi linguaggi dell'arte ha l'obiettivo di contribuire alla crescita sociale e culturale delle persone e delle comunità in cui opera. Ne è esempio la cooperativa Dedalo, che oggi raccontiamo, che è fortemente radicata sul territorio novarese, con quasi 30 anni di esperienza, lavora per promuovere la musica e le arti ad essa collegate attraverso la collaborazione con le scuole e le istituzioni del territorio. Un'eccellenza che con orgoglio oggi vogliamo raccontare e che vogliamo far conoscere, in quanto con la sua attività quotidiana esprime al massimo i valori cardine della cooperazione. La nostra è una cooperativa che raccoglie un'esperienza ormai nata nel 1995, una realtà che comprende 40 soci, più di 1000 utenti fra allievi e partecipanti a vario titolo alle nostre attività. È una possibile risposta, la musica, ad alcuni bisogni specifici e particolari che riguardano le diverse età. Quindi ci siamo un po' specializzati nella fascia 0-6 anni, famiglia di bambini molto piccoli che vogliono da subito vivere attraverso la musica un momento di, diciamo, di crescita familiare. Abbiamo una grande serie di attività rivolta a bambini nella fascia delle scuole primarie e fino a ragazzi di età più, fino ai 25 anni. Abbiamo sposato la filosofia del progetto BREU, del progetto venezuelano, che ha visto già dagli anni 70 in Venezuela il tema musicale come un tema di possibile inclusione sociale. Quindi abbiamo diverse orchestre che lavorano su questo tema. Non ultimo, un progetto specifico e particolare che riguarda proprio anche l'inclusione della disabilità. Insieme a Lega Copp abbiamo costruito questa sede a Novara in Via Maestra 3, che era un ex oratorio che è stato acquistato da noi, ristrutturato e reso un ambiente tecnicamente adatto a raccogliere un po' queste attività e queste sfide di cui quasi da 30 anni ci occupiamo con impegno e passione. Siamo tutti musica è lo slogan che abbiamo sposato e nel quale crediamo convintamente anche proprio come concetto educativo. Musica è un modo di essere, musica è un modo di essere nel mondo e attraverso la musica sviluppiamo quelle relazioni con gli altri e con noi stessi che consentono a noi stessi di essere migliori. La cooperativa Dedalo somma, diciamo, fin dalle sue origini una doppia anima, quella culturale che, insomma, come dire, persegue attraverso le attività musicali di cui si occupa, sia rispetto alla formazione, sia rispetto agli spettacoli che organizza, è quella più propriamente sociale, intesa come attività educativa, quindi vera e propria, sempre realizzata attraverso la musica, rivolgendosi a un'utenza prevalentemente in età scolare e quindi privilegiando, diciamo, il percorso formativo dei ragazzi in questo ambito artistico. Più recentemente la cooperativa ha aggiunto, diciamo, ai propri scopi una terza anima che è quella di cooperativa sociale di inserimento lavorativo, quindi oltre ad occuparsi di attività educative ha immaginato di avere all'interno dei propri soci, insomma, dei propri collaboratori anche soggetti più fragili per crescere professionalmente e per partecipare alle attività proprie della cooperativa Dedalo. Un saluto a tutti, oggi vi parliamo della fiera dell'artigianato tipico delle valli di Lanzo, Ceronda e Casternone. È una fiera che quest'anno, nell'edizione del 6 e 7 luglio scorsi, ha raggiunto i suoi primi 25 anni di storia, un traguardo significativo che ci piace sottolineare come CNA di Torino, come associazione di rappresentanza dell'artigianato e della piccola e media impresa, perché a partire dal 2021 curiamo direttamente, quindi dal periodo pandemico, questo tipo di manifestazione. Una manifestazione che non si esaurisce nel momento fieristico, nei due giorni di esposizione, ma che in realtà procede durante tutto l'anno. Quindi una fiera che è più di una fiera? Sì, certo, perché la CNA di Torino insieme al GAL, Valle di Lanzo, Ceronda e Casternone è impegnata per lo sviluppo dell'economia montana. Su queste valli un po' trascurate negli ultimi decenni, ma con grandissime potenzialità. Sono le valli più vicine al capoluogo torinese, quelle per le quali vale più che in altri territori la definizione di area metro montana. Valli dove ci sono tantissimi giovani che hanno una capacità di creare nuove attività e in questo la sinergia tra il progetto MIP, Mettersi in Proprio, la CNA di Torino e il GAL stanno dando dei risultati estremamente interessanti nella piccola manifattura, nella produzione di prodotti enogastronomici e nell'accoglienza, nel turismo. Stanno nascendo attività importanti che mettono facilmente radici perché il territorio conquista appena lo si scopre. E allora la fiera che cos'è? La fiera sta diventando da quattro anni a questa parte uno straordinario motore per lo sviluppo dell'economia di questo territorio. Una fiera che abbiamo voluto essere estremamente rigorosa, che seleziona con grande attenzione gli espositori, soltanto aziende del territorio, soltanto aziende in grado di portare prodotti di eccellenza nella lavorazione del legno, del ferro, della pietra che rappresentano la manifattura storica ma allo stesso il presente e il futuro perché ci sono aziende che hanno saputo innovare, stare al passo con i tempi, utilizzare macchine a controllo numerico estremamente semplificate, tant'è vero che la maggior parte dei clienti di queste attività non è oggi ancora sul territorio montano ma è piuttosto sulla città e sui comuni dell'Internet. E poi abbiamo tutto lo straordinario patrimonio gastronomico del territorio, salumi, tome, i famosi formaggi delle valli di Lanzo ma anche i torcetti che sono uno dei prodotti del paniere della città metropolitana di Torino ma un prodotto storico alla pari del gressino che caratterizza il territorio della provincia di Torino. Questa fiera sta diventando anche una vetrina virtuale perché da quattro anni a questa parte la CNA di Torino con il sostegno della Camera di Commercio e del GAL sta realizzando un progetto di video filmati che si chiama Biblioteca Multimediale dell'Economia delle Valli di Lanzo, Ceronde e Casternone e questa biblioteca multimediale si è già strutturata attraverso quattro docufilm che hanno raccontato una trentina di produttori tipici del territorio nell'area agricola e nell'area della piccola manifattura, della panificazione, della produzione di prodotti da forno. Documentari che testimoniano le lavorazioni, l'eccellenza delle materie prime, le tecniche tradizionali e che si mettono a disposizione, in questo senso è una vera e propria biblioteca multimediale, si mettono a disposizione dei giovani, delle scuole e a questo proposito voglio ringraziare i comuni e l'Unione Montana che stanno diffondendo questi docufilm anche attraverso i siti internet ufficiali istituzionali, dando la possibilità a chiunque, anche dalla città di Torino o da qualunque posto del mondo, di vedere che cosa sono in grado di fare gli artigiani delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone. Uno straordinario patrimonio di storia, di conoscenze, di competenze, di talenti e di giovani che hanno il coraggio di mettersi in gioco. Buongiorno, siamo nello spazio di Confartigianato Biela dove chi impara l'arte non la mette da parte ed è quello che ha fatto il nostro ospite di oggi, Emanuele Morales, buongiorno benvenuto, dall'Argentina dove ha imparato l'arte che ha portato in Italia direttamente a Cossato, Cossato in provincia di Biella. Morales è in Italia da dieci anni, da pochi mesi ha aperto la sua attività di parrucchiere. Come è nata questa passione nel mondo della conciatura? Questa passione è nata da molto piccolo, avevo 16 anni e ho incominciato a lavorare in un salone molto piccolo, in un paese molto piccolo di Buenos Aires e da lì mi sono proposto appunto di arrivare nel migliore dei marchi a livello nazionale. In Argentina hai lavorato nel campo della moda, oltre che in saloni di bellezza di altissimo livello. Che differenza hai notato riguardo le tendenze, la moda, la clientela? Allora, sicuramente la moda è molto più ampia qua, nel senso che qui ovviamente siamo nella capitale, nella culla della moda e nasce qua praticamente, là e noi prendiamo diciamo più, guardiamo di più all'America, la moda dell'America, però sì, diciamo che la donna o l'uomo anche... Tu fai da donna, no? Unisex, sì, faccio uomo e donna e molto più varia sicuramente. Ci sono state sicuramente delle sfide, quali sono quelle più difficili che hai affrontato per questo cambiamento? La sfida più grande è stata arrivare da un mondo dove lavoravo appunto in tv, in mezzo a delle sfilate e alla moda e dover partire proprio da zero nel territorio biellesi è stata forse la sfida più complicata che ho dovuto affrontare. Però ce l'hai fatta. Parliamo invece di clientela, la differenza tra la donna argentina, l'esigenza che è la donna argentina rispetto a quella italiana. Allora, una cosa che ci tengo parecchio a risaltare è la fedeltà di una donna quando viene a conoscere il proprio parrucchiere. Cioè le italiane sono più fedeli? L'italiana quando conosce il suo parrucchiere è un'allianza proprio molto forte. Qual è il punto di forza che tu hai oppure che questo mestiere ha? Diciamo che il mio punto di forza io lo chiamerei più l'essere alla ricerca continua delle comodità e la praticità a livello di una piega fatta in casa. La donna, ok, deve trovare il suo look ideale per il giornaliere e soprattutto la comodità. Il risultato che si ottiene in un salone è ottenerlo, non dico uguale, ma simile anche a casa. Tu sei riuscito a realizzare già alcuni sogni, però ce ne sarà uno grande. Quale può essere? Non so, quello di diventare un parrucchiere famoso? Quello di insegnare magari alle nuove generazioni questo mestiere? A me sarebbe piaciuto insegnare questo mestiere in futuro ai ragazzi giovani che hanno la passione per questo lavoro. Quindi la passione è necessaria, senza quella? Assolutamente, la passione è assolutamente necessaria e senza passione è molto complicato. E che è quella che hai avuto tu, perché tu non sei un figlio d'arte, insomma un mestiere che è partito da te. Esatto, sì sì no, diciamo che ci va dedizione, molta dedizione, essere alla continua ricerca. Ecco, tu mi raccontavi questa mattina prima di questa puntata che hai conosciuto la tua attuale moglie a Buenos Aires. A Buenos Aires, sì sì. E grazie a lei sei arrivato in Italia. Esatto, lei è nata qua e ci siamo conosciuti a Buenos Aires e siamo venuti qua e ho iniziato a lavorare in questo territorio. Quindi soddisfatto della scelta, sono passati dieci anni, in questi dieci anni c'è stata una progressione nella tua professione e adesso si vedono i risultati. Esatto. In bocca al lupo per la tua attività, grazie a Manuel Morales. Grazie a voi. I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.